Musica 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 In questa giornata Musica Se a lei, Sonia, hai qualcosa da dire ai telespettatori? Mi raccomando il montaggio, eh. Che non vedo l'ora di cominciare questo evento per incontrare la pubblicità. Stiamo ribassando. Mi stiamo ribassando il copione. Andiamo arrivando. Un'internet account, ok. Stiamo ribassando. Stiamo ribassando. Stiamo ribassando. Grazie per la visione!